Il tema di oggi è questo, digital marketing nell'era dell'intelligenza artificiale, quindi la cominciamo facile facile, una giornata serena, parliamo di cose semplici, cosa vuol dire intelligenza artificiale? Vuol dire che siamo di fronte a un cambiamento epocale, una delle cose che sempre di più diventa evidente per chi si occupa di marketing è che la transizione fra il modo di fare marketing di oggi e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale sarà molto molto più rapido rispetto a quello che c'è stato nel passaggio fra il tradizionale marketing e il digitale mobile. Chi di voi a qualche anno in più si ricorderà che per vent'anni abbiamo detto è l'anno del mobile, è l'anno del mobile, è l'anno del mobile e non arrivava mai, invece siamo già arrivati all'anno dell'intelligenza artificiale e il provero C1PO non reagisce benissimo perché comunque ci sono tante cose da capire, tante cose da conoscere, tante cose da analizzare. Ma per parlarne nel modo più opportuno possibile proviamo a fare un piccolo passo indietro. Facciamo un piccolo passo indietro di 500 anni. Questa è la prima pubblicità di cui si ha traccia effettiva se togliamo di mezzo gli assiri babilonesi ed è un annuncio messo sulla porta di una chiesa in Gran Bretagna da parte di un tipografo che è il primo tipografo inglese, la prima persona che abbia mai introdotto in Inghilterra, il Torchio. Lui pubblicava libri, doveva promuoverli, doveva fare marketing, stampava questi piccoli annunci e li attaccava sulla chiesa. Passiamo in avanti di qualche secolo e arriviamo al primo annuncio stampa che tanto per cambiare, e ancora oggi è così, era di un immobiliare. Annunci immobiliari del Boston Newsletter per la vendita di una proprietà dalle parti di Long Island. Qualche secolo ancora in avanti e arriviamo finalmente alla prima radio. Il primo spot radio, anche in questo caso è uno spot immobiliare. La cosa curiosa, che non tutti sanno, è che dopo che uscì il primo spot radio il Senato degli Stati Uniti fece uscire una legge che proibiva la pubblicità, perché sembrava immorale fare pubblicità in un servizio pubblico come quello della radio. Ancora qualche anno in avanti e arriviamo, signore e signori, al primo spot TV. Non so se avete mai visto il primo spot TV, è qualcosa di inimmaginabile, incredibile, credo che rimarrete traumatizzati per tutta la giornata e non potrete pensare ad altro. Costo 9 dollari, questo è il primo spot mai andato in onda. Giuro che c'era anche l'audio. Riproviamo, eh? Arriva, arriva. America runs on bull of a time. Quindi, America runs on bull of a time, hanno preso la stampa, hanno preso la radio, li hanno messi insieme, hanno detto tv. Ok? Costo 9 dollari. Questo modello però, il modello basato sulla televisione, è stato un modello che per tantissimi anni ha permesso al marketing, alla pubblicità e alle aziende di prosperare. Era un modello abbastanza semplice, un modello in cui l'azienda al suo interno studiava in che modo fare il prodotto, quindi il marketing di base, in che modo fare la logistica, la distribuzione, dopodiché andava a intercettare un'agenzia creativa e un'agenzia media con l'obiettivo di far che cosa? Decidere su quali editori fare la propria campagna per raggiungere i clienti. E i clienti, una volta vista la campagna, dove andavano, andavano a comprare il prodotto. Ok? Modello estremamente semplice, ha funzionato per decine di anni, fino a quando, all'improvviso, abbiamo cominciato ad abbandonare le televisioni. Abbiamo cominciato ad abbandonare le televisioni, vi sarà capito di vederle anche voi, in giro, dovunque. Ovviamente sono, nella maggior parte dei casi, tubi catodici. Ok? Le persone abbandono televisioni, televisioni che una volta io, da bambino, avrei voluto da morire, mettermi nella mia stanzetta e tenermi lì, no? Mia figlia non ne ha più bisogno di queste cose, nel caso suo iPad. Ha i suoi contenuti direttamente in casa e non ha bisogno di vedere la televisione. Ups, nella sua cameretta. Cosa ho combinato? Ok. Non solo questo, anche la pubblicità tradizionale ha perso completamente di vista la sua efficacia. Non sappiamo più esattamente dove andare a parare, dove trovare le informazioni. I vecchi modelli non funzionano anche da un punto di vista economico. Le grandi marche, Pepsi, Procter & Gamble, non crescono più come una volta. Hanno sempre più difficoltà a riuscire ad essere efficaci sul mercato. E poi il retail è in crisi. Vi sarà capitato di sentirlo ultimamente sempre di più, i vecchi modelli non funzionano e i negozi cominciano a chiudere, no? E quando si dice, ma di chi è la colpa? Per quale motivo succede tutta questa negatività? Di solito la risposta è tutta colpa digitale. E io, siccome col digitale ci pago il mio mutuo, vorrei rispondere come risponde Jack Nicholson. Però, però in parte è vero, però in parte è vero. Ma vediamo anche il digitale da dove veniamo. Noi veniamo dal 1994 col primo banner, che è questo qui, era un banner di AT&T che ha avuto un CTR del 44%. Se qualcuno di voi si occupa di digital marketing sa che oggi il CTR è 0,00 qualcosa, ok? Questo era il primo banner. Poi è arrivato YouTube con i pre-roll, no? Tutti amiamo i pre-roll, vero? Tutti adoriamo i pre-roll. Falso. Tutti odiamo i pre-roll. È una delle robe più noiose della Terra. Siamo costretti a guardarli ed è una roba che assolutamente, sembriamo di parlare della cosa più innovativa, no? Digital marketing, pre-roll, video. Una cosa di una noia mortale. Ma noi abbiamo i big data e con i big data possiamo fare, grazie a digital marketing, cose fantastiche. Cose come quelle che si vedono in questo video, che vi faccio vedere, che rappresentano nella vita reale quello che a ognuno di noi succede ogni giorno navigando su internet. Today advertising feels like it just gets in the way. Hi, remember those shoes you looked at the other day? Would you like to buy those shoes? It shows up at the wrong time and in the wrong places, distracting us. Remember those shoes you looked at the other day? shoes. Remember those shoes? Want to buy the shoes? Insomma diciamo di essere estremamente innovativi, digitali, no? Sembra essere sufficiente essere digitali per essere moderni. In realtà non è vero, in realtà continuiamo a fare un sacco di casino nel marketing. E poi arrivano i social media. I social media semplificano, rendono tutto più divertente e più facile? Assolutamente no. I social media ci impongono di rivedere completamente il modo in cui produciamo i contenuti, soprattutto la quantità di contenuti che dobbiamo produrre ogni giorno. Questa è una citazione del presidente di Pepsi che dice che una volta le agenzie devono produrre 4 contenuti l'anno e per fare questi 4 contenuti ci mettevano dai 6 a 8 mesi. Oggi devono produrne 4.000 e ci mettono di solito 8 giorni, spesso 8 ore. Ok? E sempre di più questo bisogno di fare dei contenuti nuovi, di nutrire il mercato con nuovi contenuti diventa un must, con alcune conseguenze. Una di queste conseguenze è il fatto che le persone sono sempre meno attente a quello che guardano. Sapete la storia del pesce rosso che ha un'attenzione di 8 secondi? Secondo i signori del marketing di Facebook in Italia, ci vogliono in media 2,5 secondi per visualizzare il contenuto da desktop, mentre ne bastano 1,7 da cellulare. Attenzione, c'è un piccolo trucchetto rispetto a questo. Sapete quanti secondi ci vogliono a Facebook per contarvi una visualizzazione? Che poi pagate? 3 secondi. Se voi guardate un video per 3 secondi, voi pagate, cioè voi, l'azienda paga a Facebook una visualizzazione. In più, altra bella novità, alcuni di voi l'avranno già messo in piedi anche sul vostro telefonino, possiamo finalmente bloccare la pubblicità. E anche qui mia figlia è un po' traumatizzata che ha 13 anni e si dice e si domanda per quale motivo mio papà fa un lavoro per cui altre persone pagano per non vederlo? La block è un sistema sempre più diffuso. In Italia le ultime cifre ci dicono che circa il 30% delle persone che hanno un telefonino hanno installato un sistema di blocking della pubblicità, quindi non guardano assolutamente nulla di quello che noi facciamo come professionisti della pubblicità. E quindi la conclusione qual è? La conclusione, ed è una conclusione di un professore americano che si chiama Scott Galloway, che fa dei video bellissimi, divertentissimi su internet, quindi vi invito ad andare a vederlo, è che la pubblicità sta diventando una tassa che pagano soltanto le persone povere. Perché se ci pensate, se avete 9 euro da spendere al mese, guardate Netflix e non vedrete mai pubblicità, non vedrete mai marketing. Se avete un minimo di competenza tecnologica, vi installate un adblock e non vedrete mai un'iniziativa di marketing. Quindi qual è la situazione? La situazione è che siamo in grado oggi di raggiungere un target con una precisione che il signore tipografo inglese si sognava. Siamo capaci di misurare ogni aspetto del marketing, sappiamo realizzare dei video bellissimi, in 360, interattivi, meravigliosi, ma ancora oggi, nella maggior parte dei casi, serviamo lo stesso annuncio pubblicitario e facciamo le stesse iniziative di marketing alle stesse persone. E allora proviamo a vedere dove entrano l'intelligenza artificiale. Questi sono dati di media trend, cioè quante conversazioni, quanto si parla delle parole chiave big data e intelligenza artificiale. C'è stato un momento, a metà del 2014, in cui ancora questi due temi più o meno erano trattati allo stesso modo. Poi improvvisamente qualcosa è cambiato. Improvvisamente big data è diventato meno interessante, meno divertente e la parola intelligenza artificiale ha cominciato a diventare sempre più utilizzata, se ne parla per Amazon, se ne parla per Facebook, ma che cosa vuol dire esattamente intelligenza artificiale per il marketing? La prima cosa da sfatare, fortunatamente, è che intelligenza artificiale non è questa roba qua, cioè l'intelligenza artificiale non è controllo completo dei nostri profili, non è qualcuno che ci spia la notte, è molto più semplice in realtà. Questa è una definizione, queste due definizioni secondo me sono molto puntuali. L'intelligenza artificiale è quell'abilità di un computer di utilizzare i dati per fare previsioni e realizzare azioni con un particolare obiettivo. Questa è una definizione macro di intelligenza artificiale che si applica benissimo al marketing. E poi c'è quella di machine learning. Il machine learning è una serie di algoritmi che sono sotto insieme dell'intelligenza artificiale che può essere utilizzata per rendere i sistemi intelligenti, per riconoscere magari dei sistemi ricorrenti, dei trend ricorrenti e utilizzare questa conoscenza per migliorare il modo in cui facciamo marketing. La cosa interessante, la cosa da notare è che sotto molti punti di vista l'intelligenza artificiale è già qua, è già qua su molti dei servizi che noi utilizziamo quotidianamente. Per questo all'inizio vi dicevo, la transizione sarà molto più rapida rispetto al passaggio dal tradizionale al mobile. Qualche esempio, ognuno di voi ha Facebook, chi è che non ha Facebook? Facciamo un caso scientifico. Sì, c'è sempre qualcuna in stanza che non c'era, due addirittura. Bene, allora Facebook è l'esempio classico di intelligenza artificiale applicato a cosa? Alla cura dei contenuti. Ci sono 35 milioni di persone attive ogni giorno su Facebook in Italia, nessuno ha un Facebook uguale a un altro, perché il sistema che c'è alle spalle, l'algoritmo di Facebook è in grado, grazie all'intelligenza artificiale, di ricomporre dei contenuti in modo diverso per far sì che voi abbiate un'esperienza di produzione della piattaforma il più possibile personale. Ma non c'è solo Facebook, c'è anche motore di ricerca. Google, esempio classico di prodotto digitale vecchio stampo, è esemplificativo di cosa vuol dire fare un prodotto digitale. Ogni volta che voi usate Google, Google migliora. Migliora di uno 0,0000006%, ma moltiplicate questa percentuale per tutte le ricerche fatte ogni giorno, potete capire quanto si è in grado di utilizzare l'intelligenza artificiale. E poi c'è Netflix. Chi di voi usa Netflix sa che c'è una particolarità dell'algoritmo di Netflix che è pazzesco. Voi vedete lì i contenuti, vedete i titoli e vedete un'icona. Bene, anche su Netflix il tipo di icona che voi vedete è diverso da utente a utente. Perché se voi volete guardare, ad esempio, Will Hunting, Genio Ribelle e siete delle amanti della commedia, come icona vedrete Robin Williams. Se siete amanti delle commedie romantiche, vedrete due attori che si baciano. Il titolo è sempre lo stesso, il film è sempre lo stesso, ma Netflix, grazie all'intelligenza artificiale, interpreta le vostre preferenze e vi fa vedere un'icona diversa. Altri esempi. Spotify. Chi di voi ha Spotify lo sa bene, è perfetto nel farvi scoprire nuova musica sulla base dei vostri acquisti precedenti. Ma qui stiamo ancora parlando di contenuti digitali e siccome mi piace invece stimolarvi, vi racconto di un'azienda che in Italia ancora non c'è e che secondo me fa una delle cose più fighe sulla terra che ancora nessuno industrialmente in Italia ha fatto. Si chiama Stitch Fix. Quanti di voi la conoscono? Sì. Stitch Fix fa Netflix per l'abbigliamento. Voi entrate in Stitch Fix e gli dite mi piacciono più o meno questi vestiti, mi piacciono più o meno questi outfit, vivo in questa città, queste sono le mie preferenze. Loro cosa fanno? Senza chiedervi un abbonamento, vi mandano a casa 5 prodotti. Di questi 5 prodotti voi scegliete quale vi piacciono, gli altri li rimandate indietro, quelli che vi piacciono li pagate. Cosa succederà fra un mese? Vi arrivano altri 5 prodotti, ovviamente nel frattempo Stitch Fix ha imparato quelli che avete rimandato a casa, migliora l'algoritmo e vi farà avere di volta in volta prodotti nuovi che scoprirete e per i quali vi innamorerete, li terrete e farete felice gli inventori di Stitch Fix. E arriviamo quindi a dire quali sono le possibili aree di applicazione di questa famigerata intelligenza artificiale, ma ce ne sono fondamentalmente tre oggi sul mercato. Il primo è fare marketing con l'intelligenza artificiale e in parte qualcosa abbiamo già visto, faremo un esempio pratico, vuol dire utilizzare l'intelligenza artificiale per ottimizzare campagne di marketing che abbiamo già fatto in passato. Il secondo caso è il marketing dell'intelligenza artificiale, cioè dove l'oggetto che stiamo cercando di vendere è proprio l'intelligenza artificiale e vedremo anche qui qualche caso. L'ultimo caso, quello che francamente mi eccita di più, è quello di fare marketing all'intelligenza artificiale. Ma non voglio fare spoiler, ci arriviamo dopo. Quindi cominciamo con il marketing con l'intelligenza artificiale, che se volete ripeto, è la parte più semplice. Quando si fa pianificazione media, ad esempio, si cerca di trovare dei caratteri che ci permettano di capire quali sono i clienti, qual è il target che vogliamo raggiungere. Ad esempio, se io vi dico uomo nato nel 1948, che ha due figli, che ama i cani, che è cresciuto in Inghilterra, che si è sposato due volte e che è un uomo di successo, voi potreste più o meno immaginare che stiamo parlando di persone tendenzialmente simili. No? No. Sono loro due, sono nati nel 1948, hanno due figli, amano i cani e sono persone di successo. Ok? In media tradizionale queste differenze non era in grado di percepirle, perché ci voleva una grande analisi dei dati, una grande complessità dell'analisi della pianificazione che non era resa possibile. Oggi abbiamo uno strumento che è il programmatico, probabilmente ne parlerete anche nel corso di questi due giorni, che permette di fare, grazie all'intelligenza artificiale, esattamente questo, cioè permette di fare automazione nella pubblicità, verificare i profili diversi, cercare di capire anche gli utilizzi di contesto, quindi dove stanno guardando contenuti online, qual è il contesto in cui li stanno fruendo. Diciamo che il programmatico, poi queste slide immagino che vi arriveranno, il programmatico è molto più complesso di così, ci sono tanti elementi di tecnologia ed intelligenza artificiale alle spalle, ma quello che permette di fare, in sintesi, è dare il giusto messaggio alla giusta audience, nel giusto momento, grazie all'intelligenza artificiale. Poi, marketing del AI, questa è la frontiera di oggi, ok? Mentre il programmatico e tutte le altre attività che usano l'intelligenza artificiale, come su Facebook, per fornire un servizio o migliorare un servizio già esistente, è qualcosa che, meno male, già esiste, il marketing dell'intelligenza artificiale è appena cominciato. Di fatto stiamo assistendo alla terza rivoluzione digitale. Abbiamo già avuto due paradigmi fondamentali, no? Chi ha qualche capello bianco in più e qualcuno in sala c'è, si ricorderà quando c'erano i meravigliosi schermi neri con le scritte verdi che facevano tanta tenerezza, no? Poi c'è stata un'prima rivoluzione nel 97 con i siti internet, quindi database alle spalle, sito internet, fruizione più semplificata. La seconda rivoluzione è stata quella del mobile. Nel 2007 siamo passati da dover utilizzare il mouse e la tastiera, cosa che mia madre ancora non apprezza, a usare le dita, cosa che mia madre adora, ok? Oggi siamo alla terza rivoluzione. La terza rivoluzione sono appunto le piattaforme di intelligenza artificiale. Sono i famigerati chatbot che tutti noi utilizziamo ogni giorno anche se non lo sappiamo, quando andiamo a parlare su Facebook con Vodafone, quando andiamo a comunicare con aziende via customer service su Facebook e poi questi altri oggetti curiosi. Questi altri oggetti che sono Amazon, Google, oggetti, smart device che usano come interfaccia non più le dita, non più il testo, ma la voce. Cambia quindi in modo di interagire con il cliente. Secondo la ricerca di Gartner, entro il 2020 l'85% delle relazioni che le aziende hanno con i clienti non avverrà attraverso esseri umani. Averrà direttamente, in modo immediato, attraverso sistemi di intelligenza artificiale. E già è così da molti punti di vista. Il passaggio da testo a voce è già avvenuto. Più del 30% delle ricerche che facciamo ogni giorno, le facciamo online, è fatta non a partire dal testo, ma a partire dalla voce. E questo è qualcosa che è successo il primo di giugno. È un'operazione di PR bellissima che ha coinvolto Fedez e J-AX. Perché il primo oggetto di smart device serio è arrivato in Italia poco più di un mese fa. L'ha realizzato Google e ha cominciato anche a fare pubblicità negli ultimi giorni, ma per lanciarlo ha fatto questo simpatico evento di PR allo stadio di San Siro. Abbiamo pronta una sorpresa per voi. E per questo momento abbiamo chiesto ad un amico speciale di darci una mano, il nostro assistente Google. Ok Google? Ciao, come posso aiutarti? Sai accendere le luci, Google? Sì, certo, accendo le luci. E allora, accendi San Siro! Ok, accendo San Siro. San Siro, fatevi un applauso perché ci state regalando uno dei momenti più belli della nostra vita. Questo è successo il primo di giugno. Giusto per informazione, giuro che non lavoro per Google, la versione base di questo oggetto costa 50 euro. Quindi veramente poco. E negli Stati Uniti, sono usciti ormai da un anno e qualcosa, sono già diventati un fenomeno di massa. Gli Amazon Echo, che sono la versione di Amazon di questo oggetto di Google, sono già installati in più di 30 milioni di case negli Stati Uniti. Qual è il corrispettivo dei siti internet? Qual è il corrispettivo delle app in questo nuovo mondo vocale? Beh, si chiamano nel caso di Amazon, Skill. Nel caso di Google, Action. Cosa vuol dire? Vuol dire che con questi device noi entreremo in relazione dicendo, ad esempio, Ok Google, chiedi al brand di fare questo. Quello sarà il nuovo modo in cui tutti noi, nei prossimi anni, entreremo in relazione con i contenuti digitali. Ed ha una serie di impatti già oggi. Questi sono esempi di nuove opportunità per i brand che sono già state attivate negli Stati Uniti. Io posso tramite Amazon Alexa richiedere un Uber, posso chiedergli se ho dormito bene o meno ieri, posso avere le ultime informazioni, posso chiedere di fare un cocktail, posso chiedere suggerimenti su come fare un cocktail. Tutto è estremamente interessante con alcuni elementi di problematicità, perché questi device sono estremamente ricchi, estremamente capaci di creare contenuti, ma sono dei nuovi gateway, delle nuove porti di accesso per i clienti che limitano in qualche modo anche la potenzialità informativa. esempio, se io vado sul sito amazon.it e cerco delle batterie, il sito Amazon mi fa vedere tutte le batterie disponibili, tutti i brand disponibili. Se io invece lo chiedo allo smart device, incredibilmente, Amazon mi farà vedere soltanto le batterie di Amazon. E già adesso negli Stati Uniti questo ha un impatto notevolissimo dal punto di vista dello share di mercato, dei prodotti Amazon rispetto ai competitor. Quindi nuove opportunità e nuove minacce. Di fatto stiamo entrando in un mondo che è il digital marketing nell'era dell'intelligenza artificiale, dove l'elemento di base, cioè la fiducia, che è l'elemento di base del marketing, sta cambiando il suo focus. Il focus non sono più i clienti finali, non sono più i brand, sono questi oggetti. Se i clienti si fidano dell'intelligenza artificiale, si fidano di questi oggetti, questi oggetti diventano l'elemento fondamentale delle nostre campagne. Dopodiché ci sono anche degli esempi invece un pochino più creativi, più divertenti, così abbassiamo il livello di ansia rispetto all'intelligenza artificiale, come quello che ha fatto Burger King negli Stati Uniti. Burger King ha visto questa crescita incredibile dei device nelle case degli americani, soprattutto di Google Home, e ha realizzato uno spot TV con l'obiettivo di far succedere qualcosa in casa. Questo è il modo che funzionava. You're watching a 15 second Burger King ad, which is unfortunately not enough time to explain all the fresh ingredients in the Whopper sandwich. But I got an idea. Okay Google, what is the Whopper burger? According to Wikipedia, the Whopper is a hamburger consisting of a flame-brilled quarter pound beef patty, sesame seed bun, mayonnaise, lettuce, tomato, pickles, ketchup, and sliced onion. Questo è il sogno da sempre di ogni marchettaro. Cioè, fare qualcosa in televisione e far succedere qualcosa in casa, no? È meraviglioso. Sa un po' di minority report, ma è molto bello. Quello che non c'è in questa case, ma ve lo racconto velocemente, è che racconta qualcosa di come sarà il marketing nei prossimi anni, è la rapidità con cui poi questo spot ha creato un impatto culturale. Perché cos'è successo? Esce fuori lo spot. Tutti quanti ne parlano. Lo spot, come avete capito, andava a cercare informazioni dove? Sulla pagina Wikipedia di Burger King. Ma le pagine Wikipedia si possono modificare. E i competitor Burger King si sono messi di buona lena a modificarlo, tant'è che per due giorni la risposta a questo spot era il Whopper è un panino fatto per tre quarti di bambino. Non solo, anche Google ovviamente non era contenta che le persone utilizzassero, che le persone, che i brand utilizzassero Google Home in modo diverso da come loro l'avevano immaginato e quindi da remoto hanno aggiornato tutti i Google Home in giro per l'America per far sì che a quella tonalità di voce il device non si attivasse. Cosa ha fatto Burger King? Ha realizzato nuovi spot cambiando la tonalità di voce. Quindi cosa ci insegna questa cosa, al di là dell'interesse e della cosa buffa? È che il marketing digitale all'epoca della I ha anche un'altra caratteristica. È veloce, è liquido, è in costante cambiamento. Ma arriviamo al punto finale. Il punto finale è marketing all'intelligenza artificiale. Cosa vuol dire? Per parlarne voglio farvi vedere un breve video che forse avete visto, ma che a me ha colpito moltissimo. È un video che ha fatto vedere il CEO di Google nell'ultima conference per gli sviluppatori. Il suo tema era sempre di più le persone hanno bisogno non soltanto di informazioni, ma anche di far fare cose ai nostri assistenti virtuali. E una delle cose che le persone adorerebbero far fare i loro assistenti virtuali è per esempio fissare appuntamenti per loro. Ok? E quindi Google ha cominciato a istruire il suo assistente personale per fare che cosa? Chiamate. E questo è un esempio di una chiamata fatta da un assistente artificiale a un salone di bellezza. Questa è una chiamata fatta da un assistente artificiale. Quindi una conversazione telefonica fra due enti di cui uno non è un essere umano e l'altra persona non si è accorta della differenza dell'essere umano, perché come avete visto l'assistente era istruito anche a interpretare i momenti di silenzio come momenti che richiedevano un... Ok? Quindi io imposto il mio assistente personale, gli dico quali sono i miei bisogni e lui può fare delle cose per il mio conto. Ok? Ma se questa è la situazione e se sempre di più i sistemi di pagamento sono elettronici allora possiamo non soltanto prenotare un appuntamento ma nei prossimi mesi, nei prossimi anni potremmo anche chiedere ai nostri assistenti personali di fare acquisti per noi. Potremmo chiedere a loro di realizzare acquisti, ovviamente non tutti i possibili acquisti, ma magari quelli più semplici, quelli più ripetitivi, quelli che non richiedono una componente emozionale. No? Chiaro, se stiamo parlando di abbigliamento voglio decidere io, ma se stiamo parlando di un'assicurazione io vi sfido di aver letto tutte le clausole di un'assicurazione. Voi semplicemente volete pagare una certa cosa a un certo punto. Basta! Lascerete su indifare all'intelligenza artificiale. Qual è il problema per noi che facciamo marketing? È che diventa sempre più difficile perché gli AI Assistant non hanno emozioni, non sono fedeli per natura, nel modo più assoluto, e non possono essere manipolati. Quindi non c'è niente da fare, non potete dare un gattino davanti a un AI Assistant e sperare che vi compri qualcosa. Ok? Cambia il focus, come vi dicevo prima, perché nel momento in cui, grazie all'intelligenza artificiale, il focus non sono più i clienti finali, ma è l'intelligenza artificiale stessa, quello che dobbiamo cercare di fare è capire come i brand potranno ottimizzare la propria presenza all'interno di questi nuovi device. capire in che modo, anche creativo, possiamo fare quello che ha fatto Burger King, cioè hackerare queste piattaforme di intelligenza artificiale per creare un impatto culturale che parli della nostra offerta, che parli del nostro brand. Quindi vi lascio con tre spunti, tre stimoli. Il primo, siamo entrati nell'era dell'intelligenza artificiale, ci siamo entrati anche se non ce ne siamo accorti prima, ma è già qui, è già presente. La cosa positiva è che nell'era dell'intelligenza artificiale, ancora, abbiamo la disponibilità di qualunque tecnologia davanti a noi, la più sofisticata, ma la risorsa scarsa non è la tecnologia, sono le idee. Secondo punto, in un mercato fatto in questo modo, c'è sempre meno bisogno di manager e sempre più bisogno di maker, gente che sia capace di inventarsi cose nuove, gente che prenda questi strumenti, li apra come facevamo noi da bambini e veda cosa c'è dentro, per cercare di trovare nuovi modi per comunicare con i nostri clienti. E la terza, con cui vi lascio, se tutto quello che può essere automatizzato nei prossimi anni lo sarà, e non c'è dubbio che sarà così, allora il fattore di successo, fortunatamente, non potrà che essere la creatività. E quindi, l'essere umano. Io con questo vi ringrazio e vi auguro buona giornata e buon proseguimento. Grazie. Grazie. Grazie.